Musica Ciao ciao Cudier, ancora bentornato da Carlo Che facciamo? La completiamo la videoconferenza? E allora parliamo di cuffie microfono Ma che ti sei messo in testa? No, non intendo dire all'interno della tua testa Ma sulla tua testa Ah, delle cuffie E quell'assa che ti copre la bocca cos'è? Un microfono Ma il microfono lo usano i cantanti e i presentatori Come? Ah, li hai comprati dopo la lezione scorsa Perché volevi videovederti con una persona ma non riuscivi a parlarci Ah, ora è tutto chiaro Beh, quindi sai già tutto di cosa sia questo dispositivo Ma coloro che non lo conoscono? Dai proviamo Il mio primo suono ascoltato o meglio inserito direttamente nell'orecchio L'ho udito da bambino Era grazie a un auricolare monofonico Presente nella confezione di una radiolina Qui rappresentata in figura Della marca Admiral Acquistata da mio padre Io e i miei fratelli l'abbiamo aperta E ti troviamo sto coso bianco con uno spinotto jack Grazie alla nostra formidabile intuizione Data dalla presenza del corrispettivo femmina presente sulla radio Pensammo bene, una volta accesa, ad inserirlo nel foro Magia Il suono sparì dall'altoparlante Anzi, era meglio chiamarlo basso parlante Viste le dimensioni E comparì nel mini auricolare Litigata a non finire Per chi dovesse ascoltare Andavamo in giro per casa vanitosi Con questo nuovo modo di approcciare l'ascolto della musica Beh, a pensarci bene Era il precursore degli allora futuri Walkman Se vuoi questa banale e lunga introduzione Per farti capire Da dove provengono queste cuffie stratosferiche Che oggi indossiamo per ascoltare la musica Ed in genere i suoni Ma cosa sono le cuffie? Tecnicamente sono due piccoli altoparlanti Che grazie ad un sostegno ad arco Vengono posizionati accanto alle orecchie Gli stessi poi sono inglobati in una struttura morbida Per addolcire la pressione di tutta la struttura Sui patiglioni auricolari Normalmente le cuffie Prevedono una coppia di altoparlanti Per fornire l'effetto serofonico Ascoltando un suono polifonico Tuttavia È possibile trovare sul mercato anche cuffie Con un solo altoparlante Che trova un impiego particolarmente Nelle videoconferenze Essendo l'audio vocale Di un microfono monofonico Ed il microfono? Beh, se lo scopo è solo ascoltare La definizione può terminare qui Ma dato che spesso Lo scopo su internet È anche quello di parlare Ecco che devo aggiungere Che esse sono anche dotate di un microfono Sostenuto dalla piccola asta flessibile Posizionabile nei pressi della bocca Evita però assolutamente di posizionare il microfono Di fronte alla bocca Perché il tuo ascoltatore Utirebbe l'effetto collaterale Dovuto al tuo respiro Oppure quei colpetti saltuari Generati dalla pronuncia Delle consonanti B e P Tipo Bravo Piano Alternativa a questa composizione È la presenza di cuffie Senza altoparlante Il microfono Sarà un componente a parte Che puoi trovare integrato nella webcam Oppure acquistato singolarmente E posizionabile sulla tua scrivania Sostenuto da struttura propria Il microfono è un trasduttore meccanico elettrico Ossia un dispositivo Che è in grado di trasformare Le onde meccaniche In segnale elettrico Che poi sarà elaborato Dalla scheda audio In pratica la tua voce Entra nel corpo microfono Come sto facendo in questo momento Ed il trasduttore Converte la pressione esercitata Dalle onde sonore della stessa In piccolissimi segnali elettrici Che verranno in seguito processati Alcuni tipi di microfoni Devono essere dotati di alimentazione esterna Ma non è il caso dei più utilizzati per pc Ma come scelgo? Beh, per cosa ti serve? Ok, hai capito Ti sei risposto probabilmente Se stai visionando questa lezione Non credo perché sei interessato a cantare O ascoltare una sinfonia classica Devi parlare ed ascoltare, vero? 10 euro Questo è il valore della tua spesa A questo livello si ottengono cuffie con microfoni Che ti consentono di effettuare Le tue belle conferenze audio e video Di buona qualità Se auspichi invece Ad un utilizzo un po' più importante Come lezioni audio o video Allora puoi raddoppiare O triplicare questa cifra La differenza si comincerà a sentire Ma dove si collegano? Probabilmente già lo sai Visto che credo Avrai letto la lezione sulla scheda audio Sinteticamente dirò Che il jack delle cuffie Andrà inserito Alla corrispettiva uscita della scheda audio Di color verde chiaro Riconoscibile a volte anche dal simbolo Serigrafato vicino Mentre il microfono Andrà collegato all'ingresso di color rosa Ed indicato anche con la rispettiva icona Altri modelli? Certo USB Oppure Dai non chiedermelo lo sai Wireless Wireless Bene Nella prossima lezione Incontrerai Le casse acustiche Adesso Un forte saluto Ciao a presto Da Carlo E alla prossima Ciao a presto Ciao a presto